Sono con Alessandro Larosa di Ernest Young, di che cosa si occupa la vostra azienda? Ernest Young è leader nella revisione e certificazione dei bilanci, anche in consulenza dal punto di vista advisory, transaction service, quindi anche la parte corporate finance e real estate, oltre che fiscale e tributario. Che tipo di figure professionali state cercando qui oggi? Prevalentemente prediligiamo lauree in economia specialistica e in ingegneria, sia gestionale che informatica. Che figure andranno a ricoprire questi candidati? Allora, potranno ricoprire o le posizioni dei revisori o la posizione di consulente, consulente all'interno appunto delle aree di advisory in generale, che possono toccare tanti punti. La parte di economia, oltre a revisione, potrà andare a interessare lo studio legale tributario, dove abbiamo i dottori commercialisti, che si occupano un pochettino di tutta la parte fiscale tributaria, nazionale e internazionale. È sufficiente la laurea per voi? Assolutamente sì, la laurea specialistica, se poi abbiamo anche un master dal punto di vista economico-finanziario è ben accetto. Grazie.